Lister Epifani, neanche il tempo di godersi la vittoria preziosa di Aprilia che giovedì si va subito in campo ed è un vero e proprio big match contro il Campobasso, ora distante solo, due punti. Sì, ma questa è un po' la prerogativa di questo campionato, che non ha mai tempo di godersi di una cosa bella o di una cosa negativa, che sei subito in campo. Sì, abbiamo un big match molto bello da giocare, sicuramente le attenzioni di questo girone su questa partita che, ripeto, come ho detto domenica, è una partita come le altre, non sarà determinante ai fini del campionato, qualunque risultato verrà fuori, sarà solamente determinante ai fini mentali perché è una partita che ti può dare una spinta importante nelle tante partite che mancano da quella fine. Se questa partita veniva più avanti, magari a 4-5 partite, diventava determinante. Quindi è una partita che dobbiamo affrontare bene, dobbiamo prepararla bene, sappiamo che incontriamo la squadra principale che è partita per vincere questo campionato e che gioca insieme già da due anni, è il secondo anno che ci prova. Per noi è già una grande cosa stare lì a lottare, ce la giocheremo con tutte le nostre forze cercando di mettere in difficoltà. Al di là dell'importanza per la classifica, c'è anche un desiderio di rivalza dopo il 4-1 della gara di andata? La parola rivalza nel calcio conta poco. All'andata è stata una partita nata male con l'espulsione, abbiamo fatto troppi errori, noi gli abbiamo regalato troppi gol, tra i dei quattro che abbiamo subiti. È stata una partita in salite perché abbiamo giocato per 80 minuti in 10. Però sono quelle partite che poi servono nell'andamento di un campionato perché poi non ci siamo fatti condizionare assolutamente da quella partita. Abbiamo preso le cose positive, abbiamo preso le cose negative di quella partita e siamo ripartiti facendo grandissime cose. Adesso ci troviamo in un momento dove, tra virgolette, non abbiamo niente da perdere, ce la vogliamo giocare fino alla fine. Quale può essere la chiave? La squadra che affronterà meglio mentalmente questa partita. Io credo che la testa sarà molto importante giovedì perché tecnicamente siamo due squadre forti e sicuramente chi ci arriverà meglio a livello mentale avrà il vantaggio su questa partita, anche se si giocherà una partita molto dura. Secondo me sarà molto equilibrata. Speriamo di fare quello che stiamo facendo nelle ultime partite. La gara così attesa è un peccato giocare la porta chiusa. Ma questo è un peccato un po' per il calcio in generale, anche per i nostri tifosi perché non ci sono. No, si vive male perché dall'interno la viviamo male, perché ogni partita si gioca senza pubblico. È una cosa brutta per il calcio, perché ho fatto calcio da una vita. Però abbiamo la fortuna che vengono la televisione a riprenderci. Sarà un motivo anche questo, magari importante per la nostra testa, giocare in diretta televisiva in tutta Italia. Sarà una cosa bella. Grazie. Grazie.